1973, Annola, Giglio del Bettoliere, che rappresentava la storia tragica di Giulietta e Romeo. I maestri di festa erano le famiglie De Sena e Petillo. Notate tra gli altri Pietro Parziale. I maestri di festa erano le famiglie De Sena e Petillo. I maestri di festa erano le famiglie De Sena e Petillo. I maestri di festa erano le famiglie De Sena e Petillo. I maestri di festa erano le famiglie De Sena e Petillo. I maestri di festa erano le famiglie De Sena e Petillo. 1974, Piazza Duomo. Giglio del Panettiere, Paranza di Giacomo Broda, comanda Paolini Baccalà.